rieccoci qua ragazzi vent'anni dopo vent'anni dopo ok bene devo registrare questa cosa perché ho messo in pausa una volta e si sta accendendo da puttana praticamente ok free fedra tra l'altro credo di aver perso poco comunque poca roba l'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria la fila per il cibo è ancora ferma non deve esserci molto da mangiare ok scusate eh si a quanto pare quindi ora si esce e si fa il cazzo che si vuole no più o meno no quest'acqua qua ok andiamo salve come va eh turismo grazie che cazzo merda via merda merda via via dai dai dispursi rin buy ok dai e devo perdonare su 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 merda dannate luci di merda che se le prendesse sai chi? lui cazzo ecco a posto infatti e ora mi ricuccio ok ok su e r2 fantastico a posto da fuori ok a posto andiamo e si eh si si credici che fa questo? ok ci vediamo scusi dorme dorme sul posto di lavoro eh buonanotte abate 2 shock 4 si sta scaricando andiamo e non corre più sto cosa però arrivo 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 marlene eh infatti infatti oh bene salve una favola guarda una figata qui come siamo messi è la pecora tutto tranquillo su una traccia di soldati o infetti quello che volevo sentire bene molto bene Joel aiutami qui dove? qui dove? ah qua ah qua c'è ancora il televisore 4 terzi il tubo cattodico questo credo che vada bene giusto per il retro game non per altro attenzione la foglia eh si guarda sono navigato quindi urca aia eh si e luce fu e kung fu si ora prendiamo l'attrezzatura quieto vedi oh bene bene pistola eh lo so infatti prima in area 2 quando lo stai mirando per ok qui è stata torcia bene Texas eh Texas si va bene sollevami dai vadi contessa vadi minchia sono nato pronto dai occhio eh vai la versagliera occhio al braccio che tramposi si stacca cazzo andiamo qua vai figlia figlia la ma sto qua tirare pugni a vuoto magari no eh si eh si ci scappa ci scappa qualcosa ci mettiamo dentro con il cespuglio lì no eh scherzavo dov'è la scala dov'è la scala dov'è essere qui in zona ecco la intravedo già eccola lì eccolo sì sì la porto qui dai dai oissa oissa posiziona vai a posto prima del signor signora mi confondi con un'altra ah beh signorina scusa eh infatti infatti arrivo arrivo qui signorina signorina venga venga signorina qua c'è qualcosa aspetta aspetta che controlliamo qua la cucina salve e benvenuti nella mia cucina io sono Cristina Parodi a parte che c'è Cristina Parodi adesso si è inizia a fare i video in quattro terzo cioè quadratiche via boh sono andato sul suo canale così era ieri oh questo piastrina per fa un po' vedere amiche leggi una piastrina gira qua non c'è nient'altro direi di no andiamo avanti vai giù di qua tesi ora arrivo quieta aia e infatti se no mi giro al cazzo e infatti a proposito quando arriva il prossimo carico beh incontreremo billy il mese prossimo e si spera avremo altre pillole e munizioni fermo spore spore spore? collezione spore i muffer e i funghi città e infatti vengono da qualche parte fa attenzione da qualche parte dovrebbe finire aspetta qua come short ok eccolo qua schifo eh si a quanto pare bravo bravo sei un genio a genius da questa parte piano eh dove vedi che vado cacca quella ancora vivo ho la maschera rotta merda non non lasciate che mi trasformi vi prego che vuoi fare ecco fatto andiamo andiamo si ma ok non lasciate che mi trasformi desiderio esaurito cioè esaurito vabbè buona qua non c'è nulla andiamo di qua aspetta 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 di qua no di qua c'è qualcos'altro no eh figurati figurati che schifo mamma mia mamma mia andiamo va cazzo minchia intensificare quanti sono quanti sono merda come si passa come si passa così si fa a posto a presto a presto a presto Bene, non ce ne sono altri Ok, buono Eh, fatti Aspetta, aspetta Uh, qua Magari c'è qualcosa? Figurati Figurati se c'è qualcosa Qua? No, eh No, proprio no Eh, andiamo su di qua, vai No, niente Uh, qua c'è qualcosa Mi ha detto da vedere Siamo tutti infetti, abbiamo qualche ora, un giorno al massimo Spero che il contrabbandiere venga lo stesso Così da farti arrivare questo messaggio Avrei dovuto ascoltarti e venire nella zona Con te, quando ne ho avuto la possibilità Ora è troppo tardi Manz Si sono ammalati provando ad entrare nella zona Per quanto tutti se ne lamentino Ci sono un sacco di poveracci Che vorrebbero poter vivere all'interno Eh, sì Passiamo di qua, vieni Che ci sono gli assi di legno qua Amo? Ah, che bella aria fresca Ah, meglio che non canto Spero che se ne fossero scaduti E sarebbe una buona idea Strike Aspetta un po', qua non è che c'è qualcosa da prendere Figurati Munizioni, manco per l'anima Uh, magari qua dalla macchina Eh, eh, eh No No Niente Scherzavo Ah? No Figurati Niente Andiamo, vai Andiamo, signora Signorina, scusa Vedo la mano? Fai da sola? Di qua Brava Vedo che hai imparato Eh, tranquilla, vai, vai Allora Eh, aspetta Prima di andare su Io guardo un po' di qua Perché Sai com'è Niente Eh, come non ho detto Ah, beh, ma non c'è problema Ah, beh, ma non c'è problema No, troverò Faccio io? La prendo io Aspetta, aspetta Prima di farmi vedere un po' qua Come la situazione Se c'è qualcosa Da prendere Da fare Da brigare Perché Ok Ok Qua non c'è nulla Allora Eccolo lì Ci regge? Dubito Soprattutto me Allora, te magari sì Ma me anche no Dove sei? Ah, lì Vai, ciappa Vali È pesante Credo di potertela portare Sì, eh Minchia Ok Ehm Per risalire su Ehm Mi ci vorrà Una mano Quanto pare Deve aspettare lei Se 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 Con calma, eh Sali, culo pesante Muoviti Sei autoritario Ehm Ah Devo passarli qua Eh, chi si ricordava, ragazzi Cioè Passata una vita Anche di corsa Biacce Dai, andiamo Tac Controlliamo che non ci siano soldati in giro Eh, infatti Via libera Andiamo Vai Olio cuore Olio cuore proprio Altro che i pallet Dead by daylight Proprio Sì, sì Proprio Credici Dai Eh, orquita Sei calma, eh Che cazzo è sto qua? Qualcosa No 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 Qua non sa che già sono delle macchinette Qua non c'è niente Figaro C'è un computer Prendiamo Ehi, piccoletto Ehi, là Il campo deve essere libero Niente soldati o uomini di Robert, ok? Quindi? Ci sta aspettando Eh Renderà tutto più interessante Sì, eh Andiamo Andiamo Scusate Che Non adesso No, no È tutto ok Non Ora Capito Ok È andata Ok Uh, che carini Spiacente Questi cani Sono stati tutti Prennotati A meno di ora Prova tra una settimana Eh, ok Che carattere Andiamo Va Eh, salve Permesso Se tu chi compri Tess Quanto tempo Non ci vieni più a trovare Vabbè Chi è questo? Fatti i fatti tuoi Eh, salve Sì Fagli il culo Fagli il culo Quel bastardo Siamo di qua Ma si può Minchia Ma Sarà pagato il tipo E invece E invece Chi è? Cose vecchie Lasciamo perdere Questo? No, scherzavo Andiamo, vai C'è andi qua Salve Andiamo in visita Eh sì Minchia Mezz'ora fa Ecco E andiamo Vai Uh, qua c'è un Dele luci Rise Sorgi O risorgi Forse risorgi Forse risorgi Look for the light Cerca le luci O la luce Ci siamo Ecco Chi è? Fa Beh, di nuovo Fateci passare Se tenete la pelle Girate i tacchi E tornate Uh, che palle Non ci guardiamo con voi Vogliamo solo Robert Infatti Nessuno vi costringe Girate i tacchi E andate Vene Andiamo Pezzo di merda Eh, vaffanculo Che cazzo Non muori Sì, ma Ma ha compenetrato Sta qui Cazzo Non c'ho più munizioni No Dai Dai, dai E mori Ben fatto, Texas Anche tu Come ha fatto a mettere insieme Tutti questi tizi Eh, infatti Robert è bravissimo Scriverà Sì, ma andiamo Mettiamo finito Tutto questo Eh, mi nozione Ehi, dammi una spinta Ok Vedi qua Ehi Ok Vadi Pissa la manena Dai Dammi la mano Arrivo Questa Poi si stacca di nuovo il braccio Ecco fatto Ok A posta Andiamo Che schifo Sì Sì, ma Un medikit No Capito che Molta è difficile Però Puttana Merda È ora Di nuovo I tizi Porca Puttana Come sai che sta arrivando Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert Cristo Non avremmo dovuto accettare questo lavoro Non dipende da noi Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno Forza, forza Aspetta, aspetta Croc È a posto Tutto ora è sbloccato Ok Sì, ma un medikit voglio, eh Cazzo Signorina Uh, qua No Andare qui dentro Porco zio Mi ha tirato una cartella sto stronzo Vaffanculo Forza 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 Volevo dirtelo Ero in Jordan Street Sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di cinque civili in manette Uncchia Ah, l'hai fatto fuori, ok Come occhio Cazzo Boom Bote da orbi Cazzo 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 Per Come era più per curarsi, Cristo? Come cazzo Come cazzo era per curarsi Puttana Eva Controlli 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 Minchia Minchia Mi ricordo Fantastico Cioè, sto schiacciando tutti No, eh Sto schiacciando tutti Oh Raperti Collezionabili Piazze Ah, dio mio Non aveva detto prima che tasto era Non lo dice più Vabbè No, vabbè, tanto devo entrare qua Nano No, no Cazzo 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 Sto Sotto Chiave Bene Un ultimo giro usciamo Tra poco ci sarà il coprifuoco Si, ma Eh, stiamo facendo cose sc millise Troppo paranoico per restare solo Ci faremo venire in mente qualcosa togliato Ok Che diavolo era? Si Che diavolo è stato? E vaffanculo Aspetta, aspetta, aspetta Se lo dico io, figlia di puttana Non so come ci si cura, puttana, ah eccolo Pazzo di merda, boom Boom, bitch Vabbè, curiamoci, vai che Cosa fa, scappa? Ok Ma che cazzo? Madonna E morì, sotto atroci e sofferenze Hai visto? Che bravo Non c'è nulla Ok, sono finiti i tizi, eh Guarda, possiamo andare C'è nessuno? No Porco zio Pezzo di merda Stardo Per questo Mh, che Oh, ma che d'ordi, cazzo Un pugno in gola Che pru, che pru dell'anima, cazzo Avremmo dovuto portare più genere Eh Ci rallenterebbero e basta Sì, hai ragione 10 Forza Il molo e il pupo Andiamo Questo bisogna schiacciare Ok Aspetta che c'è un coso lì, eh Ah no, ok Ma non è che c'è Ah, vedi Coltello Vendia Direi che abbiamo ammazzato tutti Eh sì Amo Vieni premuto Basta che ti muovi Dai, dai Merda, ancora Quanti sono? Ciao amico Ecco Ecco Infatti, infatti Facciamogliela pagare Ci sono spedizioni Perfetto E abbiamo aperto i contatti a nord Eppure a fuori La testa Quinta Buona notte Buona notte Buona notte Aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Dove devi far fuori Ehi Credo di aver sentito qualcosa Sì, sì Aspetta, io lo capisco Oh, merda Oh, cazzo D'affanculo Oh, cazzo Eh, bellino Uncchia Cazzo Tant'è Tant'è Io sempre Eh Madonna Sempre veni Arrivare A morire Quasi Eh Che si fa Dove si va adesso? Signora 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 Dov'è? Allora Bisognerà andare Entriamo dentro Se deve fare Ah, lì Eh, boh Dimelo domani Andiamo Andiamo E vabbè Come no Vai Corri Bellino 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 Tutto ferito Ma madre Sta andando Che cazzo è andato? Di qua Vai Eh, vedi che passa Volevi Ciao Ciao Com'è? Tess Joel Vabbè Niente rancori Vero? Oh no Ok Ah La cambizzata Ci sei mancato? Eh, sì Un poco Un poco Non so cosa tu abbia sentito Ma non è vero, ok? Voglio dire Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo Beh Eh sì È complicato Ok Senti Lascia che ti spieghi Le voglio Spiega, spiega Cazzo Ok Basta, basta, basta Oh Dio Basta fregnare Dai Stavi dicendo? Sì Le ho vendute Cazzo Come hai detto? Ah Avevo altra scelta Avevo un debito L'avevi con noi Hai scommesso sul cavallo sbagliato Oh, solo bisogno di più tempo Dammi una settimana Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi Dai, sai che lo volevo Chi ha le nostre armi? Non posso Come non posso? Dammi solo un paio di giorni Le luci Avevo un debito con le luci A posto Cosa? Ascolta Praticamente sono tutti morti Possiamo Andare lì Farli fuori tutti E prendere le armi Che ne dici? Oh E dai Che si fottano le luci? Uccidiamoli È davvero un'idea del cazzo Porca puttana Minchia Bene, adesso Andiamo a riprenderci la roba Non lo so Spieghiamo tutto Ok Andiamo a Cercare uno delle luci Non dovrei andare lontano Ah Eccola qua La regina delle luci A posto Che ci fate qui? Affari? Non sembri molto in forma? Eh no Dov'è Robert? Prego Accomodatevi Mi serviva vivo Le armi che ti ha dato Non erano sue Le rivoglio Non è così semplice Cazzo se lo è Ho pagato quelle armi Se le rivuoi Devi guadagnarle Dedito ora Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa Della tessera monaria Devo portare una cosa fuori città Fatelo voi E io vi ridò le armi E anche di più Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so I militari vi hanno quasi eliminate Su questo hai ragione Vi mostro le armi Ok Mostraci le armi Vai Devo andare Decidetevi Voglio vedere quelle armi Seguitemi Vai Dobbiamo uscire da qui Ora Non lasciarlo andare Prova Prova Grazie a tutti